Pronto? Wow! No, guarda, tu mi pecchi un momentaccio, sono di furia perché devo rientrare a casa, ho già preparato tutta la roba per uscire con il cane in addestramento, ma se torna la mia moglie, di sicuro la mi trova da fare qualcosa. Eh, sì, infatti, guarda, ascolta, ti richiamo dopo quando sono in macchina, va bene? Bye, ciao, ciao, ciao. E dove andresti? Sì, affanno spesso. Ah, mamma mia. Siete ragazzi? Siete ragazzi? Questa situazione sarà capitata sicuramente a ciascuno di voi, ma ogni tanto riusciamo anche a entrare nel bosco, guardiamolo. Siete ragazzi? Siete ragazzi? Bis ripping me qui. Grazie a tutti Lu, sei bene te Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti